e imparava a conoscere il porto da cui era assalpato e i luoghi familiari della sua giovinezza ed intorni di casa e un campiello di Venezia dove correva da bambino. A questo punto Kublai Khan interrompeva. O immaginava di interrompere. Grazie a tutti. I sogni sono desideri di felicità e il sogno non hai pensieri di esprimire. I sogni sono desideri di felicità e il sogno non hai pensieri di esprimire. I sogni sono desideri di felicità e il sogno non hai pensieri di esprimire. I sogni sono desideri di esprimire. I sogni sono desideri di esprimire.